Abbiamo fatto una brutta partita, merito anche del Cuscaiari, che sapevamo è in un grande momento di forma e sicuramente è una squadra che merita molti più punti della classifica che ha. Poi ha avuto varie vicissitudini fra infortuni e tutto, però c'è sinceramente da riconoscere i loro meriti. Noi abbiamo avuto un buon approccio, abbiamo iniziato bene la partita, ma quando siamo andati a fare dei cambi, a mettere in campo la panchina, purtroppo la nostra panchina ci ha dato veramente poco, mentre la loro panchina ha dato un contributo importantissimo e lì è nato il loro vantaggio. Poi purtroppo non siamo mai riusciti a rientrare e quindi adesso pensiamo alla prossima, anche perché giochiamo ogni tre giorni. In una stagione così complicata e così frastagliata è normale avere alti e bassi, oggi abbiamo avuto un basso importante e pensiamo, come ho detto prima, pensiamo solo alla prossima perché tutto il percorso che hanno fatto queste ragazze non è che si cancella con una prestazione negativa, quindi risettiamo e pensiamo domenica a giocare una buona partita a Brescia.